allora come sapete io qui seguo come schema le schede della diocesi poi fa un po' roba per conto mio anche perché poi potrebbe essere una cosa utile lo leggo anche io il commento delle schede io però ora mi baso più che altro su un altro autore però può essere anche utile avere un'altra voce e un altro commento che potete leggere anche da voi sulle schede allora brevemente vi ricordo ancora la struttura del libro l'altra volta siamo entrati a commentare il pallino 2 i tre oracoli contro le pratiche peccaminose di Israele cioè i capitoli da 3 fino a 6 l'altra volta abbiamo fatto i primi 8 versetti del capitolo 3 stasera c'è una sezione abbastanza ampia allora tutta questa sezione in tutta questa sezione praticamente intanto vi dico lo schema ci sono tre oracoli contro Samaria questo è il primo ci ho messo il pallino 1 questo è il secondo fino al versetto 15 questo è il terzo che va dal capitolo 4 fino al versetto capitolo 4 versetto 1 fino al versetto 3 poi c'è tutta una sezione abbastanza ampia che dopo vi dirò vi spiegherò meglio che cos'è è un ritornare sopra il discorso e dopo vi spiegherò tutta questa sezione va fino appunto al capito al versetto 13 del capitolo 4 allora io stasera non leggerei tutto insieme perché mi sembra un po' troppo lungo si legge parte per parte fatelo udire nei palazzi di Asdod e nei palazzi della terra d'Egitto e dite adunatevi sui monti di Samaria e osservate quanti disordini sono in essa e quali violenze sono nel suo seno non sanno agire con rettitudine oracolo del Signore violenza e rapina accumulano nei loro palazzi perciò così dice il Signore il nemico circonderà il paese sarà abbattuta la tua potenza e i tuoi palazzi saranno saccheggiati ah ecco mi ero dimenticato di dire per legarmi un po' all'altra volta l'altra volta avevamo visto il profeta annunciare l'ineluttabilità della parola del Signore che sarebbe arrivata vi ricordate c'erano tutti quegli esempi che alcuni eventi sono premonitori di altri eventi ancora vi ricordate gli esempi che faceva così il profeta l'altra volta faceva intendere che sono maturi i tempi in cui il Signore farà sentire la sua parola e se vi ricordate questo lo esprimeva attraverso l'immagine del ruggito del leone ecco oggi si arriva e dunque quindi il Signore ora senza mezzi termini rinfaccia i peccati degli israeliti questi tre oracoli sono tre oracoli appunto contro Israele e contro Samaria ciascuno dei quali contiene il rimprovero per la colpa denunciata e l'annuncio della conseguente sventura vedete qui ho evidenziato in rosso quelli che sono quello che è il misfatto il peccato e in viola la sventura l'annuncio della sventura ecco iniziamo da questo primo oracolo che presenta una particolarità curiosa diciamo così qui diciamo il profeta si mette a fare un po' di ironia un po' una sagace ironia fa comparire come visitatori o come giudici potremmo anche interpretarvi così due popoli anzi non due popoli a caso ma se vi ricordate i due popoli che sono i nemici storici di Israele cioè la Siria e l'Egitto i palazzi di Asdod rappresenta la Siria e i palazzi della terra d'Egitto qui vi devo dire quindi no si invitano questi popoli stranieri a vedere quindi no adunatevi sui monti di Samaria e osservate quanti disordini sono in esse quindi si invitano questi popoli a guardare a vedere c'è una particolarità che forse saprete no ma a quei tempi anzi a pensarci bene non solo a quei tempi anche oggi però in modo particolare a quei tempi si invitavano i re stranieri perché ammirassero la ricchezza e la potenza della propria nazione affinché questo tra l'altro potesse diventare anche un elemento di deterrenza per eventuali mire espansionistiche da parte di altre nazioni cioè faccio un esempio se si vede che la Siria ricchezza esercito potentissimo chi va a vedere magari e ci pensa due volte prima di avere a che fare con la Siria poi la voce la si sparge tra i popoli e quindi diventano alcune nazioni diventano nazioni mitiche da un punto di vista ecco o militare o di altre cose tra l'altro se vi ricordate tanto per esempio quando Salomone invitò la regina di Saba e quest'ultima rimase ammirata dalla sapienza e dalla ricchezza dell'Israele di Salomone ebbene qui in maniera ecco perché parlavo di ironia qui in maniera ironica e paradossale i popoli stranieri si vengono invitati ma non per vedere la grandezza o le ricchezze di Israele ma addirittura per vederne i disordini le violenze e le rapine quindi per certi aspetti si può interpretare anche così sono i popoli storici nemici che paradossalmente diventano giudici di Israele giudici di Samaria la sentenza del Signore sarà tremenda come vedete Israele perderà la propria libertà svanirà la propria potenza e finirà per essere sottomessa ad un popolo straniero qui non ci sono il nemico circonderà il paese sarà abbattuta la tua potenza e i tuoi palazzi saranno saccheggiati andiamo al secondo oracolo così dice il Signore come il pastore strappa dalla bocca del leone due zampe o il lobo d'un orecchio così scamperanno i figli di Israele che siedono a Samaria nell'angolo di un letto sulla sponda di un divano ascoltate e attestatelo nella casa di Giacobbe oracolo del Signore Dio Dio degli eserciti quando colpirò Israele per i suoi misfatti colpirò gli altari di Betel saranno spezzati i corni dell'altare e cadranno a terra demolirò la casa d'inverno insieme con la casa d'estate e andranno in rovina le case d'avorio e scompariranno i grandi palazzi oracolo del Signore ecco questo secondo oracolo sembra un po' diciamo così presentarci l'idea che il giudizio di Dio non colpirà indistintamente tutti gli israeliti ma sembra offrire una salvezza per alcuni o l'esempio è questo il pastore strappa dalla bocca del leone due insante voglio dire strappa dalla bocca quello che il leone non era riuscito a mangiare e allora questo cosa ci fa capire qui Dio sembra dare una via di scampo per alcune categorie di persone queste categorie le individuiamo nei poveri o in coloro che sono stati relegati ai margini della società infatti no l'immagine del sedere nell'angolo di un letto o sulla sponda di un divano come dice il testo dà l'idea di chi non ha neanche un posto per dormire e quindi è verosimile che qui Amos pensi alle persone più povere che magari dovevano condividere anche il letto in cui dormire e qui questa immagine diventa veramente forte se la mettiamo a confronto con quanto dice dopo riguardo a chi aveva la casa per l'inverno e la casa per l'estate si potrebbe dire oggi a chi ha la casa in mare o la casa ai monti quindi si potrebbe pensare davvero che l'esempio si riferisca anche a quelle persone o povere oppure a quelle persone che erano messe ai margini della società e che non avevano voce in capitolo nella gestione della nazione quindi qui sembra questo oracolo offrire ecco una via di scampo per alcune categorie di persone quindi il giudizio del Signore non sarà un terra bruciata in maniera indiscriminata ma Dio colpisce chi fa il male non colpisce tutti per cui con l'empio deve soccombere anche il giusto vi ricordate qui viene in mente la parabola della zizzania quando i contadini dicono signore tagliamo no dice il padrone che non si abbia a colpire anche il grano buono al momento della mietitura si faranno i conti anche qui il giudizio del Signore però sarà tremendo su Israele colpirà gli altari di Betel cioè si vuol colpire un culto vuoto ed esteriore saranno annientate le ricchezze di molti potenti e ricchi e qui questi potenti e ricchi sono etichettati da no dal dalla casa di inverno dal possedere la casa d'inverno e la casa d'estate quindi avevano ben due case oppure avevano le case con suppellettoli d'avorio o grandi palazzi terzo oracolo ascoltate questa parola ovacche di basan che siete sul monte di samaria che opprimete i deboli schiacciate i poveri e dite ai vostri mariti porta qua beviamo il signore dio ha giurato per la sua santità ecco verranno per voi giorni in cui sarete portate via con uncini e le rimanenti di voi con arpioni da pesca uscirete per le brecce una dopo l'altra e sarete cacciate oltre l'ermon oracolo del signore qui capite benissimo anche voi la sentenza di condanna e la deportazione o chi sono allora queste queste vacche di basano allora faccio un po' una parentesi ho notato che cioè ho trovato che la la dizione biblica che lì voi vedete dite ai vostri mariti si potrebbe tradurre anche con dite ai vostri signori e quindi allora il testo prenderebbe un significato valido per entrambi i sessi ma qui via atteniamoci alla traduzione tradizionale non per volercela con le donne ecco allora si paragonano le mogli o le donne dei ricchi e potenti mariti alle vacche di basan questo paragone non è da intendere in senso di offesa come scusate la parolaccia come ecco queste maiale ecco oppure no queste queste vacche nel senso di 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 troia scusate la parola ma perché l'alto piano di basan che è a nord est del lago di a est del lago di genezareth oggi in territorio siriano è un terreno di pascolo estremamente fertile e quindi adatto per il bestiame da ingrasso ecco ma perché qui le donne vengono paragonate alle vacche grasse che solcavano appunto i territori di basan perché queste famiglie potenti queste ricche signore erano attenti soltanto ad esternare la propria vanità anche con arroganza il godersi la vita dite ai vostri mariti porta qua beviamo il continuo bisogno di fare feste costose e questi atteggiamenti tra l'altro molto dispendiosi quasi sicuramente erano frutto anche dello sfruttamento dei più poveri e delle classi inferiori che spesso non è sempre detto però spesso i facquattrini è perché in qualche maniera sfrutta il prossimo tra l'altro questo questo senso di ostentare di ostentazione la ricchezza ostentata avete sentito proprio oggi il telegiornale hanno fatto quel servizio su quanto spendono le donne le regine no hanno fatto un servizio per cui ad esempio sembra che la la prima in classifica sia la moglie del di come si chiama il il principe di Monte Carlo di di Alberto che sembra che in un anno abbia speso 700 700 mila euro investiti no ho detto questo perché sentire così poi vabbè uno i soldi ce li ha però anche se ce li ha uno i soldi l'ostentazione quando la ricchezza viene ostentata e sembrano uno schiaffo veramente il dare uno schiaffo al povero più che il godere della propria ricchezza ecco io penso ci sia questo qui queste donne insieme con i loro mariti erano ostentano ricchezza quindi dice il Signore Dio verrà e verranno tempi duri per cui praticamente qui fa il quadro di una deportazione verranno per voi giorni in cui sarete portate via con uncini cioè vi fungoleranno a seguire la via della della deportazione uscirete dalle brecce cioè dalle mura che si rompono una dopo l'altra e sarete cacciate oltre l'ermo quindi qui Dio fa capire la sentenza di Dio fa capire quanto sarà dura ed umiliante la deportazione tra l'altro e purtroppo storia che si ripete anche oggi spesso e volentieri sono proprio le donne a subire le peggiori conseguenze in caso di guerre o deportazioni ecco dopo questi tre oracoli vi ho detto c'è tutta una sezione nella quale il profeta riprende approfondisce alcune tematiche già espresse in precedenza ve la leggo tutta ora questa vi dico subito non mi metterò a commentarla versetto per versetto se no si farebbe domattina però intanto leggiamola almeno una volta andate pure a betel e peccate a galgala e peccate ancora di più offrite ogni mattina i vostri sacrifici e ogni tre giorni le vostre decime offrite anche i sacrifici di lode con pane lievitato e proclamate ad alta voce le offerte spontanee perché così vi piace fare o figli di israele oracolo del signore qui si introduce un culto falso e qui il profeta vuol dire guardate che è un basta fare le preghiere per essere santi Amos vuol far capire che non è sufficiente pregare fare offerte fare sacrifici se lo spirito e il cuore con cui si fanno queste cose non è puro o peggio ancora che attraverso le pratiche cultuali si voglia mettere a tacere la propria coscienza pensando che esse possano compensare il male compiuto anche questa è una tentazione dopo nelle conclusioni ci ritorneremo su questo e dopo questo elenca una serie di strofe dove voi vedete che c'è un ritornello appunto un ritornello ricorrente sto usando una tautologia sto dicendo la stessa cosa ma ricorre vedete ma voi non siete ritornati a me e allora cosa dice eppure vi ho lasciato a denti asciutti in tutte le vostre città e con mancanza di pane in tutti i vostri villaggi ma non siete ritornati a me oracolo del Signore qui il testo racconta una serie di eventi del passato anche eventi diciamo tragici che dovevano servire come ammonimento come segnale ma secondo Amos nessuno ha colto il segnale che bisognava cambiare vi ho pure rifiutato la pioggia tre mesi prima della mia tritura facevo piovere sopra una città e non sopra l'altra un campo era bagnato di pioggia mentre l'altro su cui non pioveva seccava due tre città andavano barcollanti verso un'altra città per berevi acqua senza potervi dissetare ma non siete ritornati a me oracolo del Signore vi ho colpiti con ruggine e carbonchio vi ho inaridito i giardini e le vigne i fichi e gli olivi li ha divorati la cavalletta ma non siete ritornati a me oracolo del Signore ho mandato contro di voi la peste come un tempo contro l'Egitto ho ucciso di spada i vostri giovani mentre i vostri cavalli diventavano preda ho fatto salire il fetore dei vostri campi fino alle vostre narici ma non siete ritornati a me oracolo del Signore vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra eravate come un tizzone strappato da un incendio ma non siete ritornati a me oracolo del Signore perciò ti tratterò così Israele poiché questo devo fare di te preparati all'incontro con il tuo Dio o Israele ecco colui che forma i monti e crea i venti che manifesta all'uomo qual è il suo pensiero che muta l'aurora in tenebre e cammina sulle alture della terra Signore Dio degli eserciti è il suo nome ecco come abbiamo visto in questa serie di ritornelli cioè di 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 frasi di pericopi evidenziate dal ritornello ma non siete ritornati a me come ho già detto il Signore elenca tutte quelle volte che gli ha dato degli avvertimenti anche tramite il sopraggiungere di situazioni difficili ma non siete ritornati a me questo è il laconico ritornello che scandisce questi versetti e tutti questi esempi vogliono arrivare ad un punto ben preciso è il versetto 12 preparati all'incontro con il tuo Dio o Israele quindi Israele si prepari a rendere conto al Signore il senso è questo si prepari all'incontro con Dio si potrebbe anche dire Israele dovrà rendersi conto che Dio c'è tu hai agito come se Dio non esistesse ma Dio c'è e quindi preparati a questo incontro e si potrebbe dire anche a rendere conto qui qui non si dice se sarà un incontro di giudizio o di altro però si dice che questo incontro ci sarà e attenzione no qui il il Dio di questo incontro viene presentato come il Dio degli eserciti quindi come un Dio potente è il Dio che ha creato il mondo è colui che muta l'aurora in tenebre è come per dire siete consapevoli chi vi troverete davanti quindi vi troverete davanti il Dio onnipotente pensateci no come se dicesse Amos però anche in questo clima l'autore non manca di far capire quanto dietro questo disappunto da parte di Dio ci sia fondamentalmente anche un atteggiamento di amore e di affetto guardate un po' no al versetto 13 colui che forma i monti e crea i venti che manifesta all'uomo qual è il suo pensiero ma è strano trovare questa frase dice dopo tutto quelle minacce che Dio fa agli israeliti però Amos ha questa frase no ci presenta Dio come colui che è disposto a far parte all'uomo di se stesso manifesta all'uomo qual è il suo pensiero Dio è anche colui che manifesta qual è il suo pensiero all'uomo cioè Amos vuol far capire che Dio vorrebbe avere un rapporto diverso con gli uomini è lui il primo a desiderare un rapporto di vera paternità e di vera figlioranza soltanto che gli israeliti non gli danno questa possibilità perché non si comportano da figli ecco questo questo testo molto chiaro è anche abbastanza forte mi sono ripermesso di rifare qualche qualche attualizzazione qualche conclusione che esprimo in forma di domanda così che anche noi possiamo farci un po' un esame di coscienza sopra ho riproposto qui l'ultima domanda che avevo fatto 15 giorni fa perché credo sia la cosa fondamentale abbiamo desiderio che l'esperienza dei profeti continui ancora oggi per noi come vi dissi anche l'altra volta si vive in un mondo in cui tutti si ritengono maestri ma abbiamo il senso del discepolato ci sentiamo discepoli ci mettiamo ad imparare di fronte a Dio che ci insegna di fronte alla scrittura ma direi di fronte anche a delle persone che possono essere per noi i nostri profeti oggi le persone non sanno ascoltare le altre persone tutti credono di essere maestri ecco poi abbiamo sentito che il Dio contesta uno scenario fatto di violenza rapina soprusi inganni frodi si potrebbe dire che anche ai giorni nostri le cronache sono piene di queste cose ecco allora quanto rischiamo di assuefarci a tutto questo ci può essere anche per noi il pericolo di abituarsi al male per portare un po' un esempio se vi ricordate i primi giorni della guerra in Ucraina i telegiornali non parlavano altro di quello ma anche noi noi tutti credo si andava sempre ad ascoltare le notizie ora un po' ci si è fatto un po' il callo ci siamo un po' è normale però ecco allora non rischiamo noi talvolta di fare la stessa cosa nei confronti del male tutti i giorni si sente che la gente si ammazza anche questo ragazzo che sta ammazzato tutti i giorni si sentono i femminicidi tutti i giorni c'è il rischio che poi alla fine uno si abitua per cui non gli fa più caldo né freddo ecco di fronte al male non possiamo rischiare di abituarci poi ho messo visto anche che il Dio contesta quel guadagno smudato come vi dicevo prima l'ostentazione e allora un po' una riflessione la dobbiamo fare anche con con le nostre più o meno ricchezze ci interroghiamo mai se i nostri guadagni sono talvolta conseguiti approfittando o sfruttando gli altri io talvolta domando questo ora certamente chi è lavoratore dipendente ha la possibilità concreta di fare questo però pensiamo ora io non voglio qui additare il dito verso certe categorie però pensiamo tutto anche al mondo del commercio i prezzi con cui si vendono e c'è modo in modo diventa un prezzo giusto un prezzo equo oppure io me ne approfitto perché tanto so che c'è il bischero che compra oppure magari peggio ancora me ne approfitto perché la gente deve usare i beni ora un po' la domandina anche sui prezzi di gas di questi ultimi tempi un po' la domandina la ci viene spontanea ma qui c'è stato dietro una speculazione perché si sa che ovviamente non si può fare a meno di gas oppure no ora questo ho portato un esempio grande però nel nostro piccolo chi è chiamato chi è commerciante chi è è un po' credo debba un po' domandarsi tutto questo poi sempre riguarda il denaro che usofacciamo del nostro denaro e della nostra ricchezza di per sé la ricchezza potrebbe se uno è ricco potrebbe essere anche neutra se non è se non è frutto appunto di sfruttamento esageriamo nel lusso o in spese esagerate e smodate che creano scandalo e offendono il povero per cui io penso anche chi ha disponibilità economica un pochino a questo ci deve stare attenti quello che si accennava prima cioè la ricchezza ostentata che diventa veramente uno schiaffo ai poveri ora mi viene in mente la frase del Marchese del Grillo quando dice io so io e voi anche perché mi ricordo quando si studiava morale la morale economica e sociale Don Chiavacci lui aveva fatto tutto un suo quadro riguardo ai soldi diceva se hai aveva enunciato questo principio se hai hai per dare quindi di per sé non è peccato essere ricchi però ti dovresti domandare e dovresti mettere a servizio del prossimo la tua disponibilità ecco l'altro aspetto ancora il culto cioè la nostra preghiera e la nostra pratica religiosa esiste il pericolo che anche per noi talvolta diventi un esercizio vuoto arido eseguito meccanicamente io credo che qui tutti potremmo rispondere di sì perché sfido chi qualche volta non ho o peggio ancora questo è peggiore è la cosa che rinfacciava no? Amos agli israeliti del tempo sì sì facendo le loro pratiche religiose e con quello si mettiamo la coscienza a posto ecco ci si farà mai l'idea che siccome io prego vengo in chiesa partecipo alla messa domenicale quindi tutto sommato eh mi sento a posto con gli altri eh insomma meno male io faccio queste cose eh io vengo in chiesa prego quindi anche se poi faccio qualcosa che non va bene ma e prego eh anche questo bisogna stare attenti perché rischiamo di avere quella che io chiamo la vita a doppio binario per cui da una parte apro il binario della fede con cui mi mi autoconsolo eh mi mi metto sgravo no? le mie i miei sensi di colpa perché prego perché faccio un'offerta perché vado alla mestra la domenica poi c'è l'altro binario che corre come una una retta parallela con cioè che è la mia vita in cui mi sento autorizzato a fare di tutto di più come se Dio e la mia fede non esistesse questo credo sia no? ciò che Amos contesta al culto degli israeliti per cui sì da una parte si va in sinagoga da una parte no? si fanno le i sacrifici le pratiche religiose da quell'altra ci si comporta sfruttando il prossimo sfruttando il debole e il povero e il povero